Saluta Enzo, saluta un po' Pauline per l'ultimo giorno, salut, salut Pauline, la dernière jour, parla un po' con lei, italiani, ma allora Pauline ti hai spiegato, Pauline non ti fatichi troppo eh? No? Dì qualcosa di buono, Inzo. La merca, e tu sei molto bene. Oh no. che schifo sto ma che facciamo un esperimento con lei vai ok vai Cristiano tu hai qualcosa di una... che te resti? la leggera ovvio oh la mamma mia è proprio a parte della volta come? no la mer nel nostro fondo ehm mamma mia è che amo tu sei agriabile 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 sa dire? agriabile alla mano agriabile come è agriabile? un pote agriabile 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 sa dire descense descense oh fu l'Italia agriabile gentile agriabile gentile gentile agriabile agriabile tu verras tu chercheras friendly tu e moi tu chercheras non toi tu chercheras agriabile agriabile guenli chanli 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 fenli ah grabe mi mancherà questa mi mancherà questo mi mancherà questo mi mancherà chanli e 6 medicamenti mi mancherà il non è che non è che ma ma mi mancherà che non è mi mancherà non è che ti 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 ho sentito una roba dica che ci ha un senso marrone rigoloso ah sei rigoloso e giocoso ah si, veramente, hai visto buono? ho vero e fai adesso allora figlio Gianni, non è nato di tutto l'escioso che tu hai aprì tipo, ah però come dico? ah, però cantare aspetta, aspetta, aspetta volare guarda, guarda non fa male non fa male questa ragazza è molto cattiva adesso riguarda Enzo e di Apero ah però e poi ah il nostro tormentone no questa non si può fare con giannico no no capì ok adesso il è marrone a recommandé il è chù Chiu! C'è chiu! Olin, non lo so, non lo so? Non lo so? Non lo so! Non lo so! Ah, non lo so! Ah, bello! Che bello! Che brutto!